Non ci sono piani segreti sulla ristrutturazione dell'Unione Europea o sul salvataggio dell'euro. Questa la replica della Commissione Europea sull'indiscrezione che circola da giorni riguardante un possibile piano segreto che la Commissione starebbe mettendo a punto di concerto con alcuni paesi forti dell'eurozona. Intanto, il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, lavora a stretto contatto col Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e con il Presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker. La situazione economica si sta deteriorando a livello globale e l'aumento della disoccupazione negli Stati Uniti e il rallentamento di economie importanti come la Cina e l'India sono le prime conferme. Una delle cause di questi risultati negativi continua ad essere la crisi, soprattutto politica, dell'eurozona. Perché la Germania continua a rispondere no alle proposte degli altri Stati membri? Perché la Germania da questa situazione trae una serie di vantaggi. Il primo è che si finanzia a costo zero sui mercati. I famosi Bunda rendono pochissimo e può acquistare a prezzi bassissimi aziende molto importanti nei paesi in difficoltà. Il piano Unione Europea-Banca Centrale Europea, per rafforzare l'euro attraverso uno strumento che riduca il tasso dei titoli di Stato emessi dai paesi esteri, richiede tempi di realizzazione di efficacia molto lunghi, inadeguati rispetto alla gravità della situazione. Altrimenti viceversa i Bund avrebbero un impatto immediato anche per facilitare un nuovo assetto politico-istituzionale dell'Unione Europea che è attualmente paralizzata.